Bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale come vedete sono retrocessi in Arena 6 perché non lo sapesse sono andati in Arena 7 per un momento sono arrivato 2100 trofei e qualcosa ma poi sono di nuovo sceso ieri abbiamo qualche baule da aprire andiamo subito ad aprire frecce, cannone, goblin, ariete ho trovato anche la riete come avete visto e oggi c'è sfide carta in tavola classica quindi andiamo subito a farle una non vi assicuro niente perché c'è proprio sonnegato non lo so non lo so, non lo so questo questo è stregone di ghiaccio e anche questa una principessa o sì poi il drago infernale ok vediamo questo qua non gioca non so usare le leggendarie raga io non lo so non so questo qua non gioca ma no sì che gioca mettiamo lo stregone di ghiaccio facciamo un po' di danno perché non va perché non va la connessione vi prego ma non dirmelo non dirmelo ok no il pecca il pecca no raga andiamo così tutte le leggendarie della terra eh difatti eh vabbè lasciamo morire io metterei così bene golem di ghiaccio golem di ghiaccio io tutte queste carte non ce l'ho raga quindi diciamo che sono un po' all'insaputa cioè non so bene usarle quindi non vi prometto niente ok sì però oh cos'è sto lag eh al 7 ok principessa e maglio di ghiaccio bello però sta sfida mi piace eh la subito subito la fulmine molto aggressivo lui io il pecca non so se metterlo quanto è che fa 6 e 78 ma che livello è livello 4 boh proviamo no no uh mastino non so cosa fare raga non so cosa fare c'è un golem di ghiaccio questa questa di qua no perché fa così questa così ahia no 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 perché c'è lag raga sta laggando male mettiamo così ho fatto una cosa schifosa lo so ec difatti mi sa che abbiamo fatto male 82 raga non ce la facciamo uh no no uh è scemo perché non ha messo la fulmine uh raga no con 82 con 82 mamma mia epico 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 già la prima partita proprio a cardiopalma doniamo un po' di truppe magari intanto vi faccio vedere che mi manca poco per il principe e ho portato il mini pecca a livello 6 che è devasto dico solo questo richiediamo delle carte per un attimo boh non lo so chiediamo domatore andiamo questo quel deck mi piaceva capanna ne ho fatto la cosa più schifosa che si poteva fare si potesse fare domatore goblin ok cos'è che uh mettiamo così io non so usare le leggendarie raga non non vi assicuro eh razzo razzo però eh difatti boscaiolo guardate non c'è eh metto il razzo adesso sbaglio ma devo mettere il razzo qua guardate c'è un 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 eh guardate eh no questa torre è andata mettiamo gli estrattori sì ho capito ma cioè ma perché non ho capito ma ognuno deve scegliere delle carte diverse non ho capito quel ragionamento eh ok ci mettiamo questa la capanna goblin ok perché i barbari per quale motivo ok fai così stregone di ghiaccio contro stregone normale chi vincerà la sfida nessuno gli arcieri a parere mio non servono a un maledetto cazzo secondo me eh sì se l'estrattore non fa il suo lavoro poi un po' difficile mettiamo un altro estrattore eh qua se ci mando la razza magari quanto fa qua no ok facciamo così bravo bravissimi così così mi piacete mi piacquiete cosa sto dicendo bravi bravi dai che quella torre è fatta bravi mi piacquiete nuovo nuovo verbo inventato lo stregone costa poco e è buono quindi complimenti mettiamo questo così poi questi così perché non saprei come contrastarlo il bocciatore eh il bocciatore è forte uh 1700 non ce lo facciamo questa partita mi sa che è persa uh un altro yeah 1-1 devo mandarci la razza scusate però eh eh me l'ha fatta andiamo eh 183 minuti di tempo eh ci avevamo ancora eh ho fatto tre corone dai tanto lo so che questo video è boia boia eh siamo già troppo moschettiere ok abbiamo preso il boia eh orda di sgherri moschettiere e come si chiamano goblin lanceri uh ci hanno messo il pek il fulmine sempre a livello 4 spero sì uh la batteria scarica mamma mia cose importantissime io provavo a fare sta combo non la conosco quindi non vi assicuro niente vai boia infatti non ho fatto niente guardate più o meno eh anche il mega sgherro ci abbiamo no perché il mega sgherro punta lì ma no ma io non lo so cioè certe volte certe volte boh bello bello avere la torre già già fatta poi il gioco mi vuole male non posso fare niente fammi la torre no già che ci sei eh aspettiamo non lo so io metterei la fulmine ok di fatto adesso aspettiamo dobbiamo solo aspettare cazzo piangio io metterei il pe uh ma di nuovo il golem che palle oh io metterei il pecca qua proprio di ignoranza più totale sette lo metterei qua e poi mettiamo qua questo e poi così vediamo proviamo eh due no guardate il bastardo ok almeno un colpo gliel'ha dato però ecco ci fa la torre forse difatti c'ho paura mi sa che è impossibile che vinciamo no no che palle oh 88 ma tanto non ci potevamo fare niente secondo me ci dovevamo difendere secondo me ci dovevamo difendere andiamo a fare l'ultima partita mi sa tornate dai sfera infuocata mini pecca dai specchio ok le altre che eh mastino lavico che palle lo so magari mi direte sei scemo perché il mastino è tanta roba lo so però il boscaiolo non lo conosco facciamo così no devo mettere il mastino con un altro mastino vi immaginate vai dai vai mini pecca sei tutti noi mamma mia tanta roba guardate mi ha già fatto giù la torre è livello 7 io ce l'ho livello 6 però facciamo così uuu un gelo mettiamo la fireball no una bella gelo ok mettiamo un boscaiolo bravi poi facciamo così eh però c'ho così fatto la torre c'ho così fatto la torre io aspetterei no non aspettiamo non aspettiamo perché volevo mettere il mastino e poi con lo specchio mettere un altro mastino pensavo di fare così poi bravo becca quanto fa di danno bella ah ah questo qua diventa un episodio maxi vabbè ragazzi io per questo episodio direi che sia tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio quindi prendiamo subito ci vediamo nel prossimo episodio che continueremo questo torneo quindi niente noi ci vediamo alla prossima bella ciao